Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto tappeti tappeto Kirman 342X241. Questi tappeti sono annodati nelle botteghe della città di Kirman nella Persia sudorientale. La maggior parte dei tappeti viene venduta alle corti reali di tutto il mondo. Il colore di fondo è spesso il rosso, i motivi sono dominati da un medaglione centrale attorniato da un grande bordo fiorito. Lavorazione, annodato a macchina, spessore circa, mm, pelo, lana, ordito, cotone. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazon E.T., clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione.